Grazie a tutti. Sola Italia presenta una varietà di almeno 14 volgari, i quali poi si differenziano al loro interno, come ad esempio in Toscana il Senese e l'Aretino, il Lombardia, il Ferrarese e il Piacentino, senza dire che qualche variazione possiamo coglierla anche nella stessa città. Pertanto, a voler calcolare le varietà principali del volgare d'Italia e le secondarie e quelle ancora minori, accadrebbe di arrivare, perfino in questo piccolissimo angolo di mondo, non solo alle mille varietà, ma a un numero anche superiore. Ma le operazioni più nobili, fra quante ne compiono gli italiani, non sono specifiche di nessuna città d'Italia, bensì comuni a tutte. E fra queste si può a questo punto individuare quel volgare di cui più sopra andavamo in caccia, che fa sentire il suo profumo in ogni città, ma non ha la sua dimora in alcuna. E come l'uno si definisce cremonese e l'altro lombardo e il terzo semi-italiano, così questo, che appartiene all'Italia intera, si chiama volgare italiano. Di esso, infatti, si sono serviti i maestri illustri che in Italia hanno poetato in lingua volgare, come siciliani, apoli, toscani, romagnoli, lombardi e uomini dell'una e dell'altra marca. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore, e onne benedizione. A Te solo, Altissimo, se confano, e null'uomo, e ne digni te mentovare. Laudato sì, e mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente messorlo frate sole, lo quale è iorno ed allumini noi per loi, ed ello è bello e radiante, con grande splendore. De Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per soralune e le stelle, in cellula e formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per aere e nubilo e sereno e onnetempo, per lo quale alle Tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate foco, per lo quale è nallumini la notte, ed ello è bello e iogundo e robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti, con coloriti flori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontati, che alla morte seconda non farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate. Chi non avesse mai veduto foco, no crederia che cocere potesse. Anti, li sembraria solazzo e gioco, lo soi sprendore quando lo vedesse. Ma se lo toccasse in alcun loco, belli sembrara che forte cocesse. Quello d'amore mi ha toccato un poco, molto me coce. Deo, che sa prendesse, che sa prendesse in voi, madonna mia, che mi mostrate d'arsolazzo amando, e voi mi date purpen e tormento. Certo, l'amore fa gran vilania, che no distringe te che vai gabando. A me, che servo, non dai sbaldimento. C'un piume allungo, piume prossimana, la fazzondolce della donna mia, che ma uccide sovente e mi risana, e ma ve miso in tal forsenaria, che in parte che ho di mora in terra strana, mi par visibil che ho con ella sia, e un'or, credo, tal speranza vana, e d'altra mi ritorno nella follia. Così, come guidò i magi la stella, guida me sua fazzon, gendome avante, che mi pare incarnatella. Però vivo gioioso e benistante, che certo, senza ciò, crudele e fella morte, ma ucciderea immantenante. Io voglio del ver, la mia donna laudare, e da sembrarle la rosa e l'ogiglio, più che stella diana, splende e pare, e ciò che lo su bello, a lei somiglio, verde e rivera, lei rassembro, e l'aere, tutti i color di fior, giano e vermiglio, oro ed azzurro, e ricche gioi per dare. Medesmo amor, per lei raffina meglio, passa per via adorna, e si gentile, che bassa orgoglio, a cui dona salute, e falde nostra fe, se non la crede, e non le può appressar, om, che sia vile, ancor vedirò, che ha maggior vertute, null'om, può malpensar, finchè la vede. Que farai, Pier dal Morrone, e i venuto al paragone, vederimo e lavorato, che in cella hai contemplato, se il monno de te ingannato, seguita maledezone, la tua fama alta neggita, se te sozzi alla finita, ai bon sirai confusione, come segno a saietta, tutto lo monno a te affitta, se non tembe lancia ritta, a Deo ne va appellazione, si se auro, ferro, o rame, provarite, en esto esame, qui gna i filo, lana, o stame, mustarite, en esta azone. Questa corte ha una fucina, che il bonauro se ci affina, se lo tene altra ramina, torna a incennere in carbone. Se l'uffizio te deletta, nulla malsanie più infetta, e ben è vita maledetta, perder Dio per tal boccone. Granne ho avuto en te cordoglio, como tescio de bocca voglio, che t'hai posto iogo en coglio, che t'è tua dannazione. Quando l'omo vertuoso è posto en loco tempestoso, sempre il trovi vigoroso, a porta il ritto e il confalone. Granne la tua degnitate, non è me la tempestate, granne la tua varietate, che trovari en tua mascione. Noi siamo le triste penne sbicotite, le cesoiuzze, il coltellino lente, che avemo scritte dolorosamente quelle parole che voi avete udite. Or vi diciamo, perché noi siamo partite e siamo venute a voi qui, di presente. La man che ci muovea dice che sente cose dubiose nel cuore apparite, le quali hanno destrutto sì costui, e hanno il posto, sì, presso alla morte, ch'altro non è rimaso che sospiri. Or vi preghiamo, quanto possiamo più forte che non sdegnate di tenerci noi, tanto c'un poco di pietà vi miri. per una merla che d'intorno al volto, sovravolando di sicur mi venne, sento che amore è tutto in me raccolto, lo quale uscìo delle sue nere penne. Che a me medesmo ma furato e tolto, né d'altro mai poscia non mi sovvenne, e non mi va al traspine essere in volto più che colui che il simile sostenne. Io non so come ad essermi ritorni, che questa merla, ma sì fatto suo, che sol volermi a libertà non oso. Amico, or metti qui il consiglio tuo, che se gli avvien pur ch'io così soggiorni, almeno un viva tanto doloroso. Io mi credea del tutto esser partito da queste nostre rime, messercino, che si conviene o mai altro cammino alla mia nave più lungi dal lito. Ma per chi ho di voi più volte udito che pigliarvi lasciate a ogni uncino, piace mi di prestare un pocolino a questa penna lo stancato dito. Chi si innamora, sì come voi fate, or qua or là, e se lega e dissolve, mostra a camor leggermente il saetti. Però, se legger coro così di volve, prego, che con virtù il correggiate, sì che s'accordi i fatti a dolci detti. grazie. 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 Applausi. 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 Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. stavvi minos orribilmente e ringhia e samina le colpe nell'intrata giudica e manda secondo che avvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte vanno a vicenda ciascuna a giudizio dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio disse minos a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto uffizio guarda come entri e di cui tu ti fide non ti inganni l'ampiezza dell'intrare e il duca mio a lui perché pur gride non impedirlo suo fatale andare vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare or incomincian le dolenti note a farmisi sentire or son venuto là dove molto pianto mi percuote io venni in loco d'ogni luce muto che muggia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto la bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina voltando e percotendo li molesta quando giungon davanti alla ruina quivi le strida il compianto il lamento bestemmian quivi la virtù divina intesi che ha così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento e come gli stornei ne portan lali nel freddo tempo a schiera larga e piena così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su li mena nulla speranza li conforta mai non che di posa ma di minor pena e come i gru van cantando l'or lai facendo in aere di sé lunga riga così vid'io venire traendo guai ombre portate dalla detta briga perché io dissi maestro chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga la prima di color di cui novelle tu vuoi sapermi disse quelli a lotta fu imperadrice di molte favelle a vizio di lussuria fu si rotta che libito fe licito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta e l'esse miramis di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa tenne la terra che il soldan corregge l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di sicheo poi è che leopatras lussuriosa elena vedi per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande achille che con amore al fine combatteo vedi paris tristano e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito camor di nostra vita di partille poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche cavalieri pietà mi giunse e fui quasi smarrito i cominciai poeta volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia al vento esser leggeri ed elli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu allora li priega per quello amor che i mena ed ei verranno si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce o anime affannate venite a noi parlar s'altri non li niega quali colombe dal visio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido venion per l'aere dal voler portate cotali uscir della schiera ov'è dido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso noi che ti nemmo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poi cai pietà del nostro mal perverso di quel che udire che varlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa ci tace siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po discende per aver pace cose guaci sui amor calcor gentil ratto s'apprende prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende amor cannullo amato amar perdona mi prese del costui piacer si forte che come vedi ancor non m'abbandona amor condusse noi ad una morte caina attende a chi vita ci spense queste parole da lor ci fuor porte quand'io intesi quell'anime offense chin'ha il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse che pense quando rispuosi cominciai oh lasso quanti dolci pensieri quanto disio meno costoro al doloroso passo poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai Francesca i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio ma dimmi al tempo di dolci sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri e quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e ciò sa il tuo dottore ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto dirò come colui che piange e dice noi leggiavamo un giorno per diletto di lancialotto come amor lo strinse soli eravamo e senza alcun sospetto per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il avanti che mai da me non fia diviso la bocca mi baciò tutto tremante dalle otto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avanti mentre che l'uno spirto questo disse l'altro piangea sicché di pietade io venni men così com' io morisse e caddi come corpo morto cade Buonasera. Buonasera, benvenuti a questo nuovo primo appuntamento. Ringraziamo di cuore Gigi Proietti, maestro insuperabile nella sua arte. Grazie. Che hanno introdotto a Dante come padre della lingua italiana. Teniamo sul palco con noi Gigi Proietti per la consegna del premio. Buonasera a voi tutti in sala, benvenuti al primo appuntamento con la nuova edizione del premio Mazzoni Leggere Dante 2011, organizzato come sempre dalla società dantesca italiana. Poi parlerò brevemente dell'edizione 2011 che inizia oggi qui alla Pergola. Per il momento vogliamo subito premiare, naturalmente con molto piacere, riconoscenza e affetto, Gigi Proietti. Il premio Francesco Mazzoni, vi ricordo, nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici di percorsi diversi, dalle diverse età e anche dalle diverse scelte espressive. Un premio consegnato nel nome quindi di quella appassionata curiosità con la quale Francesco Mazzoni, che è stato il maggior dantista del secolo scorso, definava l'idea di una cultura aperta, viva, di cui sono prova appunto queste iniziative teatrali dantesche da lui volute, seguite e onorate finché è stato fra noi. Gli artisti premiati dal premio Francesco Mazzoni sono stati finora, vi ricordo, Anna Bonaiuto, Massimo D'Apporto, Massimo De Franco, Vicernoldo Foix, Iaia Forte, Fabrizio Giffuni, Roberto Erlisca, Gabriele Lavia, Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Ivan Marescotti, Lucilla Morlacchi, Ugo Pagliaio, Ottavia Piccolo, Galatea Aranzi e Tony Servillo. Per la premiazione, ecco, io adesso darei lettura della motivazione che è stata stesa dal comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni Voci per il Poeta, che è composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella, che assegna appunto il premio a Gigi Proietti con la seguente motivazione. Nella quasi completa impossibilità di isolare un aspetto predominante all'interno di una delle più poliedriche e sorprendenti personalità della scena italiana, la motivazione ufficiale del premio Francesco Mazzoni a Gigi Proietti è in realtà una somma di motivazioni. Si potrebbe partire con un premio alla carriera, consapevole della ricchezza rara di un percorso che ha portato al culmine della notorietà quell'enfant prodige che fin da piccolissimo, dice appunto la mitologia personale di Proietti, suonava chitarra, pianoforte, fisarmonica e contrabbasso. Ma è al centro universitario teatrale, culla formidabile di tantissimi attori del dopoguerra, che la giovane matricola Proietti Luigi da Roma, iscritto a giurisprudenza, inizia davvero un interloquire con le assi del palcoscenico, debuttando in vesti d'UPUPA in un'edizione degli Uccelli di Aristofane, datata 1964. Già per quelle prime prove si legge di un attor giovane di potentissima presenza scenica, simpatia travolgente, carisma eccezionale. Cosicché inevitabilmente i ruoli, già da protagonista, nonostante l'età, si susseguono in rapida sequenza, in testi di Moravia e di Gombrowicz. Ma è nel 1970 che Proietti compie il proverbiale salto, vincendo con coraggio la sfida di sostituire Domenico Modugno in una commedia della premiatissima ditta Garinei e Giovannini. E se nel 1974 primeggia in scena accanto a Carmelo Bene e Vittorio Gasman, Proietti ancora più si pone letteralmente negli annali del teatro con quelli a Megliocchi Please, cui farà seguito una serie di spettacoli nel sodalizio con Roberto Lerici, eventi letteralmente presi d'assalto dal pubblico con una media di 2000 spettatori a sera. Sono numeri teatralmente più da Broadway che da Italia e ecco, volendo, un'altra motivazione per il nostro premio. Attore di prorompente vitalità, apprezzato e elogiato da numi sacri del nostro limpo, come Edoardo De Filippo e Federico Fellini, che per lui pensò Casanova. Proietti non è solo attore, ma altresì uomo di spettacolo a 360 gradi, regista, volto cinematografico, icona televisiva, voce radiofonica, fino a sconfinare nei cartoni animati Disney e pertino nei videogiochi di ultima generazione. Sul grande schermo lo dirigono Bolognini, Monicelli, Steno, Petri, Magni, senza dimenticare all'estero Bertrand Tavernier, Sidney Lumet, Robert Altman, sigillo per altri di un proietto internazionale che non a caso è doppiatore di Robert De Niro, Sylvester Stallone, Richard Barton, Richard Harris, Dustin Hoffman, Charlton Heston e Marlon Brando. Vi sarebbe insomma materiale sufficiente per uno scaffale intero di premi, se non fosse che per necessaria sintesi, oggi qui si premia in primo luogo il proietto geniale teatrante, erede di quegli eroici saltimbanchi che lui stesso portò alla ribalta 35 anni fa nell'indimenticabile trasmissione Fatti e Fattacci, che sotto la guida di Antonello Falqui lo vedeva con Ornella Vanoni e Giustino Durano nei panni del cantastorio e guitto In giro per l'Italia. Ci piace pensare che di quel mondo proiettisi all'alfiere nel 2011, uno spettacolo di sudore, carne e fatica che ha nel pubblico sia la musa che il mecenate, ma soprattutto, e ecco il coronamento di questo premio, Proietti non ha mai abdicato al suo ruolo di insegnante e maestro, punto di riferimento per almeno due generazioni di nuovi attori e attrici che da lui hanno non solo imparato ma letteralmente appreso l'arte. Ecco, a questo punto dovrei consegnare a Gigi Proietti il nostro premio che mi sta arrivando... Bene, allora collaboriamo, siamo in due, allora la medaglia d'oro della società dantesca per Gigi Proietti, la targa e il... Sì, sì, subito, la volevo far vedere... Un attimo. Vabbè, questa... Vabbè, insomma, non vorrei che mica desse. Se vedi? Grazie, grazie tanto. E l'edizione della Divina Commedia con tutti i disegni di Sandro Botticelli. Beh, che meraviglia, grazie infinite. Cioè, è un po' complesso la faccetta. Aspetti, eh, facciamo una cosa. Ecco, così no per la foto, no? Non sta sempre all'altra parte. Ah, no, no, qua, 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 qua. Ecco, 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 grazie. Ecco fatto, perfetto. Beh, grazie, che Dio vi benedica e posso adesso ritornare in parte alla mia lingua, diciamo, d'origine, perché l'italiano, specialmente quello dantesco, vi devo confessare che mi ha terrorizzato, perché non è il mio specifico essere finedicitore, insomma, oppure, insomma, lettore di Dante. Ho accettato volentieri, ma anche con un po' di timore, questo invito che mi avete fatto e adesso sono molto contento, perché, insomma, non sono abituato a tutte quelle cose che lei ha letto, che anzi mi hanno ricordato qualcosa e mi ero pure scordato, perché praticamente sono partito dall'epoca di Dante, io dal medioevo, e quindi, quindi vi sono veramente grato di questa occasione, oltre che del premio, naturalmente, che mi onora, ma l'occasione di, adesso non vi terrorizzate, vorrà dire che leggerò ancora qualche cosa di Dante, ma non è una minaccia, insomma, ecco, non vi preoccupate. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie, adesso poche parole, appunto, sul leggere Dante 2011. In questa edizione saranno premiati, oltre a Gigi Proietti, anche Sonia Bergamasco, che sarà con noi martedì 19 aprile, Umberto Orsini, che sarà a Firenze il 5 maggio, Giuliana Loiodice, martedì 17 maggio, e infine Alessandro Haber, martedì 24 maggio. Gli autori sono stati scelti per le letture abbinate, come abbiamo fatto l'anno precedente, l'edizione di questa sera è un po' speciale perché è collegata, appunto, alla storia della lingua italiana e alla celebrazione del centocinquantesimo dell'unità, sperando che ci possa essere anche un duecentesimo, ma insomma questo non sta a me dire. Allora, gli autori sono stati scelti per le letture abbinate al premio, sono Dante Giovanni Pascoli per Sonia Bergamasco, Dante Giacomo Leopardi per Umberto Orsini, Dante Ugo Foscolo per Giuliana Loiodice e Dante Alessandro Manzoni per Alessandro Haber. Gli interventi introduttivi saranno tenuti, i brevi interventi introduttivi, saranno tenuti, oltre che da chi vi parla, dal professor Riccardo Bruscagli. Devo ringraziare anche gli enti sostenitori della manifestazione, in primo luogo l'ente Cassa di Risparmio di Firenze, sotto la cui egida il premio si svolge. Un grazie ovviamente al Teatro della Pergola, che ci ospita nella tradizione del premio, all'Università degli Studi di Firenze, nel suo Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, al Dams, a Rinascimento Digitale per l'importante collaborazione tecnica. Infine, grazie anche agli enti patrocinatori di quest'anno, che sono il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Regione Toscana, il Comitato per i Festeggiamenti del 150esimo dell'Unità Italiana, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, adesso vorrei introdurre appunto il professor Vittorio Coletti, al quale devo consegnare il nostro riconoscimento. Il professor Vittorio Coletti, come sapete, come molti di voi sanno, è uno dei nostri maggiori linguisti e storici della lingua e insegna all'Università di Genova e a molte altre virtù che adesso vi riassumo molto brevemente, ma tutti avete avuto fra le mani il vocabolario che insieme a Sabatini Coletti ha compilato e che è uno dei lavori più riusciti in questo senso in Italia negli ultimi anni. Ecco, quindi prego il professor Coletti di affacciarsi al nostro palcoscenico. Il buio dalle tenebre spunta il professor Coletti. Grazie di essere venuto al professor Coletti, al quale vado a consegnare il nostro riconoscimento. La medaglia d'oro della società. Grazie. La targa che ricorda il suo intervento e l'edizione della Divina Commedia con tutte le illustrazioni e i disegni di Sandro Vetticelli e forse non è una durazione. Adesso ti libero. Sì, sì, sì. Grazie. Ecco. Ecco, il canto quinto che Proietti ha letto così bene, con tanta intensità, è il canto dell'amore struggente e devastante che si conclude, non a caso, con lo svenimento di Dante, troppo coinvolto nella sua vita privata e personale, nella sua esperienza di scrittore, in esperienze come quelle. La storia di quell'amore, come abbiamo visto, è anche legata a un momento particolare nel racconto di Francesca che è il momento del bacio. E quel momento del bacio è il gesto che disegna, definisce il carattere, il lato erotico e sensuale di quest'amore. Quest'amore che non è ancora quello che poi diventerà successivamente per Dante l'amore per Beatrice, l'amore sublimato, l'amore che va d'accordo con la ragione. Qui è l'amore che invece sconvolge la ragione, come abbiamo sentito. Questo amore legato al bacio, legato alla sensualità, è una costante della poesia prima di Dante e della poesia di Dante almeno fino ad un certo punto. Ed è così importante nella sua storia che a un certo punto accade una cosa piuttosto singolare che credo sia utile che io vi racconti. Quando Dante ricostruisce la sua carriera di poeta e la sua vita intellettuale nella vita nuova segna un punto di svolta. A un certo punto non sono più quello di prima, non scrivo più le poesie come le scrivevo prima, cioè nella maniera di questo amore, come dire, travolgente e sensuale, ma vado verso un nuovo tipo di amore, un nuovo tipo di poesia d'amore che è la poesia della lode, la poesia in cui l'amore appunto è sublimato, sollevato in una dimensione superiore. E lo fa scrivendo la canzone molto nota che lui stesso poi ricorda nella commedia che è Donne che avete, intelletto d'amore. E lì nella vita nuova commenta lui stesso, come sapete la vita nuova è il testo in cui Dante sceglie una serie di sue poesie scritte in precedenza e che poi commenta questa canzone. E a un certo punto dice, commentando alcuni versi di questa canzone, che ha parlato del riso e della bocca della donna, così belle. e dice, a proposito della bocca, non vorrei che si equivocasse pensando maliziosamente, perché io parlo della bocca di Beatrice perché è con la bocca che lei mi rivolge il suo saluto e il suo saluto è per me il motivo per cui io voglio vivere e il saluto è quello che porta alla salute, che porta alla salvezza. Dunque fa questo riferimento alla bocca di Beatrice che porta al saluto. Ma sapete qual è la cosa singolare? è che Dante nei versi della canzone che commenta in cui dice ho parlato degli occhi e della bocca, non parla affatto della bocca. Non c'è nessun riferimento alla bocca. È uno dei misteri naturalmente ripetutamente affrontati dalla critica dantesca. Ma lo potremmo chiamare forse come una specie di lapsus freudiano in cui nella poesia che firma, suggella l'addio di Dante all'amore sensuale, all'amore più erotico e travolgente mette ancora lì un ricordo di quell'amore che appunto attraverso i baci, attraverso la sensualità si manifestava. Questo amore era molto importante per la poesia non soltanto di Dante appunto fino a quel momento ma anche per la poesia precedente come abbiamo sentito da alcune delle letture che hanno fatto così bene i due giovani lettori. Perché era il tema dominante della poesia delle origini, della poesia più antica. Dante stesso fa queste osservazioni sempre nella vita nuova e dice non sono molti anni che si è cominciato in Europa a scrivere non più in latino, a scrivere delle poesie non più in latino ma nella lingua che lui chiama volgare. E il primo, dice lo primo, che cominciò a dire sì, cioè a usare un volgare di tipo italiano, come poeta volgare si mosse però che volle far intendere le sue parole a donna. Alla quale era malagevole di intendere gli versi latini. Quindi ha scritto in volgare perché si rivolgeva una donna. E questo è contro coloro che rimano sopra altra materia che amorosa. Conciossia cosa che con tale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore. Vedete che cosa sostiene, poi si ricrederà in parte Dante successivamente, ma cosa sostiene nella vita nuova, cioè all'altezza degli anni 90, 92, 94, insomma del 1200 Dante. Che la poesia volgare è così strettamente connessa all'amore che praticamente se si scrive in volgare non si dovrebbe parlare d'altro. E proprio vorrei dire che il tema amoroso, l'argomento d'amore in poesia, è per Dante anche all'origine della nascita della lingua italiana. Di quella che lui, come abbiamo sentito dalla prima lettura, quella da alcuni brani del De Vulgaria Eloquenza, del suo trattato latino, della traduzione italiana del suo trattato latino, Dante dice questo è, come c'è il Cremonese, c'è il Lombardo, c'è il volgare di mezza Italia, così questo che è di tutta l'Italia non lo possiamo chiamare il volgare italiano. Che è proprio l'invenzione dell'italiano. Vorrei dire che Dante si è inventato, ancora prima della commedia, siamo all'altezza, scrive queste cose, dei primissimi anni del 1300, si è inventato l'italiano. E qual era la base, il fondamento di questo italiano per lui? Era l'attività dei poeti, delle varie parti d'Italia. E a questo proposito vorrei leggere un breve passaggio in cui lui dice, ci sono tanti poeti nelle varie parti della regione d'Italia che si sono allontanati, hanno un po' superato, sollevato il modo di scrivere troppo locale, un po' grosso, un po' rozzo, e hanno scritto questa che degnamente si potrebbe chiamare appunto come la lingua italiana, la lingua italiana. E dice, cerco degli aggettivi per definire questa lingua, e la definisco illustre, cardinale, regale e curiale. Illustre perché? Perché chi la usa illumina, chi la usa illumina, fa luce agli altri, e fa luce agli altri anche perché questa lingua è potente, dice, dà potere. E allora vorrei pensare, ma che potere dà? Che potere poteva dare la lingua volgare a poeti che scrivevano soprattutto poesie da mure? E dice Dante, ci risponde lui, che cosa ha maggior potere di ciò che può smuovere i cuori degli uomini, così che fa disvolere colui che vuole e volere colui che non vuole? Ecco, ma appunto questo volgare illustre ha fatto, ecco qual è il potere del volgare, il potere di questo, come dire, aurora della lingua italiana che Dante intravede. Quello consegnato alla poesia, alla poesia d'amore, quella che fa volere anche ciò che non si vuole. Ed ha anche onore. Dice, i suoi autori sono più celebri dei re, dei marchesi, dei conti, dei potenti, e non c'è bisogno di dimostrarlo. E fa, riempie anche di gloria. Chi la serve, chi scrive in questa lingua, ottiene anche gloria. E io stesso l'ho provato, riuscendo a sopportare il mio esilio con la dolcezza di questa gloria. Ecco, questo primo momento, questo momento in cui Dante intravede una realtà linguistica nazionale, nazionale, italiana, è legato per lui all'esperienza che lui ha fatto di quasi tutti quei poeti che sono stati letti prima, da Giacomo Dalentini a, ovviamente, il Guido Guinizelli, il suo maestro, il suo amico Guido Cavalcanti, fino alla penultima lettura, quella del suo amico Cino da Pistoia, che lui, ormai siamo un po' più in là negli anni con quella poesia, Dante rimprovera di continuare a scrivere d'amore. Io mi crederia del tutto essere partito da queste nostre rime, messercino, ecco, ma tu ti fai, ti lascia ancora innamorare. In realtà, Dante, anche quando cominciava a scrivere i primi canti della commedia, era ancora preso nella tematica amorosa, ma certamente, da un certo punto in poi, il suo sguardo e quindi anche gli obiettivi che lui dà alla letteratura, alla scrittura, alla lingua volgare, alla nuova lingua, sono diversi, sono più ampi, sono più vari. E comincia anche a capire Dante che questa lingua, che è stata formata dai poeti, perché in quel momento è stata formata dai poeti, e da poco, da pochi anni, è chiamata a svolgere anche una funzione civile politica che in Italia non possono svolgere le istituzioni, perché le istituzioni non ci sono. Dice, questa potrebbe essere la lingua della reggia, dice questo italiano, se noi avessimo una reggia. Potrebbe essere la lingua del Tribunale Supremo del nostro Stato, se noi avessimo il Tribunale Supremo del nostro Stato. Ora dice, appunto, qualcuno potrebbe dire che io scherzo, usando queste parole, visto che noi non abbiamo un Tribunale Supremo, non abbiamo una reggia. Ma si può rispondere facilmente. Se è vero che una curia, lui chiama curia, questo Tribunale Supremo, unitariamente intesa, come quella del re di Germania, in Italia non c'è, tuttavia non mancano le sue parti. E come le membra di quella si riuniscono dell'unico principe, quello di Germania, così le membra di questa italiane sono unite dalla divina luce della ragione. Quindi l'unità, voglio dire, l'Italia è un gesto di superiore razionalità che scende dal cielo. Per questo sarebbe falso dire che noi italiani manchiamo di curia, cioè di istituzioni, perché non abbiamo un sovrano, non abbiamo una reggia. L'abbiamo invece per quanto materialmente dispersa. E in questa reggia virtuale, ideale, va bene, si parla, si comincia a usare questa lingua. Tante, l'aveva già intravisto, insomma, che dopo la letteratura, naturalmente, la lingua per diventare la lingua di una nazione, di una collettività complessa, doveva essersi, doveva appoggiarsi a delle istituzioni politiche, civili, amministrative, come in effetti avverrà, ma noi sappiamo, parecchio tempo dopo. E tuttavia, in quegli anni, siamo ancora poco prima della commedia, Dante si rende conto anche che la lingua volgare può essere un enorme strumento di rinnovamento culturale e di riscatto quasi, di rivoluzione sociale e culturale. perché ci sono tantissime persone, lui dice, gente che si muove negli affari, nel governo della vita cittadina, di grande capacità, ma che non sa il latino, che è, fino a questo momento, sostanzialmente l'unico strumento per arrivare a sapere. E allora decide, proprio per queste persone, di scrivere questo libro, questo famoso suo trattato, che si intitola Il convivio, Il banchetto del sapere, che non termina, ne scrive quattro dei quattordici libri che aveva impensato di scrivere, che è un tentativo di tradurre, di scrivere in lingua volgare, in un linguaggio relativamente semplice, o comunque non difficile, tutti i principi del sapere, che fino a quel momento erano consegnati esclusivamente al latino. E usa un'immagine molto bella, Dante, presentando questo suo progetto, dicendo, siccome il sapere è un cibo, è una vivanda, ma una vivanda difficile da mangiare, da digerire, bisogna accompagnarlo con un pane. Ecco, e il pane, un pane anche semplice, un pane non di frumento, un pane d'orzo, lui lo dice, sarà appunto il commento che lui farà in questo suo libro. Perché dice, io ho capito quant'è importante, quant'è delizioso, e quant'è necessario per l'uomo il sapere, il poter conoscere le cose. E quindi, ora voglio dare anche agli altri quelle briciole della scienza che io ho raccolto a mia volta stando seduto vicino al tavolo di quelli che sanno, cioè dei grandi scrittori, e dei grandi intellettuali che ha letto. E termina il primo capitolo, il primo libro, meglio di questi quattro del convivio, con questa specie di stupenda profezia. Ecco, userò dunque la lingua volgare, dice, questo sarà quello pane orzato, pane d'orzo, del quale si sattolleranno migliaia, e a me ne soperchieranno le sporte piene. E' chiaramente l'immagine evangelica per cui il sapere distribuito nella nuova lingua sattollererà negli anni di persone, e comunque ne resterà ancora anche per lui. Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale sorgerà laddove l'usato, cioè il latino, tramonterà, e darà lume a coloro che sono in tenebre e in oscurità, per lo usato sole che a loro non luce. Ecco, con questa così intensa, così vera e poetica profezia, Dante inaugura, per così dire, un percorso di allargamento della lingua volgare che esce ormai dall'ambito della poesia e della poesia d'amore e occupa i campi più diversi, convivio un trattato di filosofia, di astronomia, di letteratura, naturalmente delle cose più diverse, se vi si spiega l'ordine dell'universo, i rapporti tra i cieli, il numero degli angeli, le cose insomma tipiche del sapere enciclopedico medievale. E costituisce in questo senso come una sorta di riserva, l'introduzione al suo capolavoro, cioè alla commedia, laddove la lingua volgare è chiamata naturalmente a toccare tutti i temi, i temi più diversi, dai più bassi ai più alti, dai più emotivi e corporei, come abbiamo appena sentito, a quelli più etere e intellettuali del paradiso e al tempo stesso a percorrere tutti i livelli della lingua, da quelli più bassi dell'inferno o anche più, come dire, volgari e popolareschi a quelli più alti e raffinati dei canti ultimi del paradiso. Ecco, Dante si dice, comunemente, è il padre della nostra lingua e lo è davvero, non tanto per il patrimonio di parole che ha inventato lui, che è un certo numero, ma non sono né così numerose, né così decisive, ma perché quello che raccogliendo la lingua che sentiva intorno a sé, e non soltanto nella sua Firenze o in Toscana, ma anche nelle opere degli scrittori, degli autori e delle diverse regioni che frequentava, ha visto che questa poteva essere la lingua che univa una nazione, anche se questa nazione non esisteva e quando era anche addirittura molto lontano non solo il raggiungimento dell'unità, ma anche quelle forme di unificazione cui lui poteva aspirare o anche semplicemente pensare, tipo l'impero, il reino italiano, il reino d'Italia dentro l'impero. E perciò ricordarsi di Dante nell'occasione del centocinquantesimo dell'unità d'Italia e del momento in cui davvero lingua e nazione sono diventate sono unite in uno Stato è certamente un gesto doveroso sono contento di averlo fatto qui con voi e di avervelo proposto. Grazie. Grazie. Bene, ringrazio il professor Coletti per questo suo intervento così ricco di intenzioni e anche di stimoli per chi ha ascoltato con attenzione e quindi vi do appuntamento per il prossimo incontro che prevede appunto la lettura di Dante e Pascoli da parte di Sonia Bergamasco. Siamo contenti di vedere tante persone intorno a noi siamo anche orgogliosi di essere così bravi a organizzare direi che stasera abbiamo quasi esagerato. Arrivederci. Grazie.